Tu non puoi capire se vivi senza ritrovarti spesso altrove. Forse in me c'è una voce non mia. Io stesso credo di non conoscerla. È quella dei morti, che non dicono parole, ma suoni di peso e destino diversi. Questa voce inafferrabile ha un suo senso, quello del mondo che è da un'altra parte. Non la sento mai gridare, sussurra spesso. Non allo stesso modo si apre come una porta, entra in scena come un refolo di vento. È un sibilo, un tormento che prepara a qualcosa che dovrà accadere magari a rivivere ricordi, in mano ora ad estranei dove non nascesti. Grazie. Grazie.